Ciao a tutti, la Verrana sabato 22 di gennaio alle ore 14 inizia il girone di ritorno va a Brescia per vincere, per iniziare il girone di ritorno con il piglio giusto iniziarlo con la giusta determinazione di ribaltare l'esito del girone di andata e di iniziare un nuovo campionato che sia più proficuo per la Verrana l'avversario indubbiamente è un avversario di categoria un avversario che lotta per la promozione diretta un avversario nelle prime posizioni, un avversario difficilissimo un avversario che liberati nella sfida di andata ha dimostrato completamente tutto il suo valore quindi la sfida di Brescia sarà delicatissima, sarà diretta a proposito dal signor Dionisi sarà delicata per la Verrana, sarà importante la Verrana purtroppo viene da una prestazione, quella con l'Ascoli, molto sottotono e sicuramente deve riscattarsi con il Brescia però non è un avversario che ti consente di riscattarti con facilità comunque sarà una partita sofferta, sarà una partita dove è importante la cinicità dove è importante la concretezza sottoporta dove è importante l'essere lucidi e il saper realizzare il gol alle prime occasioni perché poi con il Brescia è facile pagare nel corso dei 90 minuti l'errore e gli errori perché purtroppo è una squadra pericolosissima, è una squadra fatta di talenti, è una squadra con tante individualità è una squadra con un bel gruppo e darà del filo da torcere alla Verrana speriamo insomma che la nostra squadra stia concentrata per tutti i 90 minuti faccia meno errori, meno disattenzioni possibili e ci auguriamo che sottoporta sia letale e a quel punto puoi giocarti la partita a Brescia staremo a vedere, staremo a vedere perché è una partita davvero tosta affrontare Brescia dopo la sfida con l'Ascoli è brutto è brutto nel senso che non è un avversario semplice quindi vedremo per il resto a proposito della partita con l'Ascoli ragazzi oggi hanno, come ha detto anche il Presidente sui social lavato la maglia e poi sarà messo a disposizione il centro coordinamento che la darà a chi è in ospedale per rallegrade il suo periodo e quindi altro gesto di solidarietà di Stefano Bandecchi, Presidente della Verrana per quanto riguarda la sfida di sabato sarà diretta da Dionisi al Brescia, Mike Krapajak, un giocatore che gioca in difesa per quanto riguarda la Verrana come tutti sappiamo è rimasto un solo calciatore positivo al Covid e continua diciamo l'indiscrezione sul calciopercato tant'è vero che è arrivato sembrerebbe essere arrivato un giovanissimo che andrà nella primavera della Ternana e circolano di siamo i soliti nomi per Di Ambo, Di Tacchi eccetera per l'ingresso gli ingressi in casa Ternana poi vi volevo ricordare che oggi è giovedì quindi questa sera su Umbria+, canale 15 del girale terrestre e i streaming per chi non ha modo di vederla dalla televisione o fuori regione ci sarà un giovedì rosso-verde per parlare ampiamente di Brescia Ternana e per ritornare a parlare di Ternana poi vi segnalo l'interpista di questa sera dell'angolo del bomber a Danilo Petrucci pilota che ha disputato un'ottima Dakar e quindi non ci resta altro che aspettare Brescia Ternana con la speranza che il girone di risorno inizi con il piede giusto